Preside Fuliano, allora cos'è questo? Un ingresso in politica? È un ritorno più che altro? Ma guarda, allora diciamo che è un ingresso, un ingresso perché allora l'ultima esperienza politica mia riserva ormai a oltre 20 anni fa, quando insieme con altre amici abbiamo creduto in determinati progetti. Dopodiché diciamo che ahimè i progetti iniziali in cui abbiamo creduto hanno vissuto anche dei tradimenti, dei tradimenti anche molto molto pesanti, ma anche perché comunque ho fatto una scelta importante che è la scelta di dedicare il mio tempo alla mia professione e a quello che di concreto avevo in mano e quindi la possibilità di costruire un modello di scuola che poteva dare ai ragazzi che mi avevano affidato una formazione seria, concreta, proiettata verso il futuro. Oggi rientro in politica e un ingresso serio in politica. Ingresso serio in politica perché, come ho detto prima in conferenza stampa con l'amica Sandra, abbiamo vissuto un percorso di vita insieme per tante ragioni, ma anche perché penso che se voler continuare a dimostrare il bene verso i ragazzi, i giovani, le famiglie, le madri, i padri che in questi ormai 38 anni di lavoro a servizio della formazione mi hanno affidato i loro figli, oggi vuol dire cercare di lavorare per dare a questi ragazzi una prospettiva anche oltre la formazione, quindi la prospettiva di una città che possa accoglierli nel loro progetto di vita. Ecco questa è un'aggregazione contro, contro il centro-sinistra, contro Francesco Menna. Assolutamente no, essere contro non ci interessa, non è nelle nostre corde, noi siamo gli uomini della costruzione, siamo le persone che hanno interesse a cuore la città, per cui la nostra aggregazione non è un'aggregazione contro qualcuno, è un'aggregazione per. La nostra domanda non è mai perché è successo questo a Vasto, la nostra domanda fondamentale è cosa possiamo fare insieme affinché questa città possa finalmente decollare e prendere il volo. Il Preside Fuliano sarà candidato? Penso proprio di sì, penso che la mia candidatura ci sarà, sarà una candidatura che vorrò giocare a tutti i livelli perché anche in questo caso voler bene non solo alla città in questo caso ma voler bene a Sandra significa condividere con lei anche questa avventura.